I thank the committee, the people of Norway, and people all over the world whose support has strengthened my faith, faith in the common quest for peace. Thank you. So, thank you for your inspiring message. Thank you. A conferirle finalmente la cittadinanza onoraria di Torino, che le era già stata assegnata nel 2010, ma lei non poteva allora uscire dal suo paese per ritirarla, nella sala rossa, dinanzi ad un consiglio comunale molto emozionato, sono stati il presidente Ferraris e il sindaco Fassino, che per quattro anni, dal 2007 al 2011, è stato inviato speciale dell'Unione Europea proprio in Birmania. Welcoming the woman who's campaigned for democracy in Burma and endured 15 years of house arrest, ordered by the military junta. Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi has received a prize in Strasbourg, given to her 23 years ago by the European Parliament. Suu Kyi was awarded the Sakharov Prize in 1990, in recognition of her fight for democracy in Myanmar, at the time Suu Kyi was under house arrest. Tutto bello, solo una piccola notte stonata, evento un po' in sordina, con fuori dal comune di Torino soltanto uno sparuto drappello di attivisti di Amnesty International, e purtroppo non abbiamo visto nessun giovane, proprio quei giovani che invece avrebbero dovuto essere attirati dagli ideali di libertà e pace di Aung San Suu Kyi. Adesso l'Italia resti vicino alla Birmania, ha concluso il premio Nobel. Aung San Suu Kyi ha raccontato poi di aver scoperto, solo da poco, che suo padre, l'uomo che ha reso indipendente la Birmania, era molto legato ad un monaco di Torino. Chi mi è stato più vicino negli anni della prigionia? Si domanda. Vakla Wawel e Desmond Tutu. A loro devo molto. La cosa più importante è stare attenti a quello che accade nel mondo. In Birmania ci stiamo incamminando verso la democrazia. Stiamo lottando per cambiare la Costituzione. Nel nostro paese ci sono tante persone di tante religioni differenti. Dobbiamo riconoscerle tutte, in armonia e pace. Dobbiamo imparare a capire tutti. Nel mondo si sente soltanto dire condanna questo, condanna quello. Io non voglio che sia così. Non mi piacciono tutte le forme di odio e violenza. Non aiutano, innescano solo altro odio, violenza e discriminazione. Io voglio democrazia, pace, Possibilità di riconciliazione, diritti per tutti i popoli. Michele Curto, subito dopo l'incontro con il premio Nobel. Sì, in realtà l'incontro l'ha fatto il Consiglio Comunale. Bellissima opportunità per noi, per la città. Peccato che una parte importante della città sia rimasta fuori. Sarebbe stato bello vedere un incontro di questo tipo con i nostri giovani. Mi è sembrato un po' in sordina questo incontro, anche con 7-8 elementi al massimo di Amnesty International fuori dal comune. Eh, appunto. Bisognava provare a raccontare non solo la Torino istituzionale, ma anche l'altra Torino che c'è quotidiana, quella delle associazioni, quella dei giovani. Detto questo, un bellissimo fatto, sicuramente una giornata di festa. Ecco, che cosa, perché tu hai parlato direttamente con la Lady della Birmania, che cosa le hai detto? Le hai ricordato un'altra emergenza umanitaria nel mondo. Un'altra democratica, sì. Io per anni ho lavorato in Bielorussia, la Bielorussia è l'ultima dittatura d'Europa, non è lontana da casa, è vicino a noi, dove c'è un dittatore che è Lukashenko, e il premio saccaro prima di Usan Suki è stato Alex Bieliecki, un uomo di cultura, il direttore del Museo di Stato di Minsk, oggi ha i lavori forzati al confine fra Bielorussia e Russia a tagliare legna. Ho ricordato alla premio Nobel, alla premio Nobel, a Usan Suki, di ricordare Alex Bieliecki, di ricordarsi che bisogna tirar fuori dalle galera anche lui. Mi ha fatto, a parte una profonda emozione, poi c'è stato un episodio bellissimo che voglio raccontare ai telespettatori, che il premio Nobel cercava uno dell'opposizione, no? e si ritrovava sempre quelli di me, e cercava proprio uno dell'opposizione, perché lei ovviamente è donna martire dell'opposizione, allora Fassino ha indicato me, dice se ne vuoi uno, tosto, eccolo qua, ed è stato molto bello come siparietto, ecco. Che cosa può insegnare? Beh, innanzitutto la forza delle donne, la forza delle donne e soprattutto la forza, come la pace e la perseveranza possano distruggere qualsiasi tipo di barriera autoritaria che può esistere. Cioè, io non ho mai creduto, come non ha creduto lei nel mio piccolissimo, in una lotta armata, una contrapposizione diretta, ma bensì la sua bontà, penso che abbia scardinato qualsiasi tipo di regime, e lei è la prova provata di quello che stiamo affermando. It's the Myanmar pro-democracy icon's first visit to Singapore and the second to an ASEAN country. The first was Thailand in 2012. e lei è la sua bontà, e lei è la sua bontà,